Allora, Manu e Di Gangi, classe l'equip, vigilia dell'ultima giornata, intanto a parte i risultati, come sta andando? Ti stai divertendo? Sì, molto, poi ieri si è alzato un bel vento e siamo divertiti. Bene, senti, comunque in classifica come siete messi voi? Siamo tredicesimi. Buono, senti, soddisfatto comunque in generale? Sì, abbastanza, avevamo deciso di arrivare a fare i primi 15, quindi siamo piazzati bene. Benissimo, senti, quanti anni hai che fai in barca? Sono sei anni che faccio barca a vela a Capodimonte. A Capodimonte? Ah, fantastico. Capodimonte? Sul lago di Bolsena. Benissimo. Martana, no, vedete le due isole. Martana e Bisentina. Martana e Bisentina, perfetto, benissimo. Andavamo al Velsena quando eravamo piccoli dall'altra parte del lago. Senti, un saluto in particolare a qualcuno del club, a qualche tuo compagno di città. Vorrei salutare il direttore sportivo Giuseppe Fabri e il segretario Giuseppe Dolera che ci hanno aiutato a sistemare le barche, comunque sono sempre disponibili ad aiutarci. Benissimo, grazie mille Emanue, buona giornata. Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci.